Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video, in questo nuovo video andremo a vedere uno speciale 100 episodi Fatto direttamente da Fox, dove praticamente riassume quelle che sono state le 7 stagioni di The Walking Dead In un video di 15 secondi Oltre a questo video andremo ovviamente anche a rispondere ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto nei precedenti video Quindi anche in questo fatemene tantissime, così che posso rispondervi nei prossimi Prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace perché ci tengo veramente moltissimo Ed inoltre iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead E inoltre entrate nel gruppo Telegram, troverete il link in descrizione Così che potete parlare con me, potete parlare con tutti gli altri che sono entrati nel gruppo, siamo quasi in 100 Ovviamente sempre su The Walking Dead, mi farebbe piacere appunto che entraste Troverete il link in descrizione E che dire, iniziamo subito con un video In descrizione ragazzi troverete il link di questo video Che ovviamente vi lascerò il link nella descrizione Perché ovviamente ragazzi non posso caricarvelo sul canale per problemi di copyright Quindi se volete andarlo a vedere, che vi consiglio assolutamente di farlo Trovate il link in descrizione In questo video andremo semplicemente ad analizzare quello che è proprio il discorso di questo video Ovviamente vi metterò anche le immagini Cioè vi metterò soprattutto le immagini Così che possiate capire effettivamente cosa sto dicendo E ovviamente insomma guardarlo dalle immagini Ma se volete guardarlo nel video in tranquillità Trovate come ripeto il link nella descrizione Questo ragazzi è davvero un capolavoro a mio parere È praticamente una splendida animazione grafica Realizzata ovviamente da MC in questo caso Dove praticamente vuole raggiungere quello che è il discorso del traguardo Che hanno appena fatto Che faranno precisamente ad ottobre Il 23 ottobre in Italia Il 22 in America Ovvero quello dei 100 episodi Ho già fatto una live che chiunque non l'avesse vista Consiglio assolutamente di farlo Dove abbiamo parlato un po' Essendo uno speciale 100 episodi Insieme ad un altro mio amico appunto Che tratta sempre The Walking Dead Vi consiglio se non l'avete ancora fatto di guardarla E quindi niente Sicuramente lì avrete Chi l'ha vista sa benissimo che abbiamo parlato di un altro Speciale che ha fatto il cast Direttamente per i 100 episodi Dove praticamente è stata un'intervista un po' dove il cast si congratulava con i fan Ringraziava più che altro i fan Per quello che è il supporto che hanno ricevuto in questi 100 episodi Ma questo è un qualcosa di diverso Perché questo? Perché questo ragazzi sarebbe il classico tipo 5 stagioni in 5 minuti Non so se avete presente Insomma tutti quei video che sono usciti 3 stagioni in 3 minuti 4 stagioni in 4 minuti 5 stagioni in 5 minuti Insomma tutti questi speciali che faceva in questo caso AMC Per ovviamente riassumere diciamo The Walking Dead Ma questa volta hanno fatto un tantino diversa la cosa Perché era da tanto effettivamente che non facevano uno speciale Ma hanno riassunto sostanzialmente 7 stagioni in un video di 15 secondi Infatti nella prima slide vediamo Rick praticamente a cavallo Quindi ricordiamo la prima stagione praticamente Il proprio inizio di The Walking Dead Seconda stagione un Rick molto molto maturato Perché comunque insomma già dalla fattoria comunque Rick era molto molto diverso Già dalla prima La terza è totalmente diverso Abbiamo il Rick Grimes praticamente Che abbiamo più o meno oggi Diciamo un inizio di Rick Grimes che abbiamo più o meno oggi Poi c'è finalmente la prigione Che è stata una delle mie location preferite di The Walking Dead E quella quarta stagione veramente ragazzi è stata stupenda L'ho adorata proprio E poi ovviamente la quinta stagione Che comunque ha dato molto Perché abbiamo avuto l'ingresso ad Alexander da parte del gruppo di Rick E poi possiamo dire così La sesta stagione con il classico Rick Grimes Insomma deciso e combattuto E poi diciamo l'ultima slide Dove praticamente riacchiude il 98 Il 99esimo praticamente episodio Abbiamo proprio appunto Negan Che è di fronte al gruppo di Rick E il gruppo di Rick ovviamente Possiamo dire così Deve per forza stare agli ordini di Negan Cioè vediamo proprio un cambiamento sostanziale Con questi 15 secondi Cioè in un video di 15 secondi Loro hanno riassunto un capolavoro Che secondo me è questa serie tv Cioè loro in 15 secondi sono riusciti A racchiudere tutte le emozioni Che ci ha trasmesso The Walking Dead In questi praticamente anni In questi 7 anni possiamo dire così E adesso insomma Devo dire che c'è molto hype Cioè nel senso stanno facendo molto hype Su questi 100 episodi Perché 100 episodi? Perché è un traguardo che non tutte le serie tv Riescono a raggiungere E una serie tv come questa Se la merita assolutamente Siamo al 99esimo episodio In 7 anni sostanzialmente Perché il 100 ci sarà ovviamente Il 23 ottobre Barra 22 in America E sono cambiate veramente tante cose Cioè ragazzi io Mi ricordo La prima stagione di The Walking Dead Quando sembrava Che l'obiettivo dei sopravvissuti Fosse effettivamente Scappare dagli zombie Questo concetto è cambiato Gli zombie sono diventati una metafora Per praticamente Racchiudere il concetto di sopravvivenza Fra i vivi Nel senso Gli zombie si Sono presenti Nella serie ancora Però Sono passati in secondo piano Proprio perché Diciamo la serie ha sempre studiato Come l'uomo si rapportasse Con l'umanità Con questi zombie Cioè i zombie sono stati la causa Per cui l'uomo è cambiato Ed è veramente fantastico Come l'hanno riassunto Cioè The Walking Dead Per me è questo Non è soltanto una serie tv È proprio Secondo me anche una lezione di vita Quella che ha voluto trasmettere The Walking Dead In 7 anni E ne in questo Praticamente Ottavo anno Possiamo dire così Siamo di fronte A quella che è l'ottava stagione Che sicuramente ragazzi Secondo me sarà Una delle migliori stagioni The Walking Dead Perché vogliono puntare molto Su quest'ottava stagione In quanto la settima È stata preparativa Per quella che sarà l'ottava Quindi state tranquilli Che quest'ottava stagione Secondo me ci farà saltare Dalla sedia Veramente in un modo pazzesco Con colpi di scena assurdi Proprio perché La settima stagione Non puntava A farci saltare dalla sedia Possiamo dire così Quindi con i colpi di scena Ma puntava Esclusivamente Al discorso Di caratterizzare i personaggi Ed è stato fantastico Come l'hanno fatto Perché comunque A me è piaciuta tanto La settima stagione Non magari come le altre stagioni Ma mi è piaciuta E l'ottava secondo me Mette tutte le carte in regola Per il discorso Del Diciamo Per il centesimo episodio E in generale appunto Con la guerra Perché comunque insomma Ragazzi Questi cento episodi È un traguardo Veramente fantastico Io volevo ringraziare Anche a voi Perché comunque ragazzi Il canale è nato Quando più o meno Insomma Eravamo nella sesta stagione Di The Walking Dead Grosso modo E quindi insomma Diciamo che è nato un po' Molto dopo Diciamo L'inizio di The Walking Dead Ma io seguivo molto Molto prima la serie Il canale è nato dopo Per vari motivi Ma comunque Io seguivo la serie Sin dall'inizio Diciamo Dalla terza stagione Possiamo dire così In contemporanea Però Devo dire che È troppo bello Ripensare ai vecchi momenti Quando la serie tv Era appena Praticamente nata E la gente Cominciava ad acquisire Questo fenomeno Che si è veramente Ragazzi Sparso in tutto il mondo E sono Sono veramente felice Che il cast Sia arrivato fino a questo punto Che questa serie Sia arrivata fino a questo punto Perché se lo merita Davvero tantissimo Quindi niente ragazzi Questo era soltanto L'inizio di questo video Perché poi ovviamente Adesso passiamo alla risposta Delle vostre domande Però ci tenevo veramente A prendere molto Di molti minuti Di questo video Perché comunque ragazzi È un traguardo speciale Per una serie tv Che comunque io amo Alla follia Quindi Deve essere Devo assolutamente farlo Devo prendere più tempo possibile Per parlarne Perché veramente ragazzi È un traguardo Veramente enorme Questo recente episodio E spero veramente Che voi possiate apprezzare Quel video lì Che troverete ovviamente In descrizione Perché ragazzi Merita davvero tantissimo Che come ripeto Guardatevelo Trovate il link In descrizione Una volta guardato Fatemelo sapere Cosa ne pensate Qui giù nei commenti E che dire ragazzi Dopo questo speciale Di 100 episodi Non vedo l'ora di vederlo Questo centesimo episodio Perché tutti questi speciali Ok ma Io voglio vedere Il centesimo episodio Ma dobbiamo aspettare Il 23 ottobre Qui in Italia Quindi niente ragazzi Adesso possiamo tranquillamente Passare a quella Che è la risposta Delle vostre domande Quindi se avete Qualsiasi domanda Da farmi La potete fare Qui giù nei commenti Ormai sapete come fare Dovete scrivere Q E commerciale E A Diciamo Le iniziali di Question and Answer Con l'hashtag davanti E poi due punti E la vostra domanda Che così appunto Potreste apparire Nei prossimi episodi Del Question and Answer Che non lo faccio In tutti i video Però cerco sempre Di rispondere Ovviamente Alle vostre domande La prima infatti Ce la fa Juice Ferrari Che ci chiede Question and Answer Cosa ne pensi In generale Dell'ottava stagione E credi che Carol Possa morire Se hai un grande Grazie mille Per il complimento Juice Allora guarda Ti dirò Io dell'ottava stagione Già ne ho parlato Poco fa Possiamo dire così Perché penso Che l'ottava stagione Si veramente Si prospetta Essere una delle migliori Stagioni di The Walking Dead In generale Sono veramente Aipato Per questa cosa Sono veramente In hype assurdo Però perché comunque Quest'ottava stagione Dovrebbe trasmettere Ciò che Praticamente Noi aspettiamo Da tanto tempo Cioè la settima stagione È stata la stagione Che ci ha fatto capire Effettivamente Che l'ottava Praticamente Possa essere Una delle migliori Stagioni di The Walking Dead Perché la settima Come ripeto Non è piaciuta a molti Ma era proprio preparativa Cioè doveva preparare Al discorso della guerra Se noi avessimo visto Se noi vedremo Appunto L'ottava stagione Senza aver visto La settima Perderebbe di qualità Perché tutto quello Ragazzi che hanno vissuto I protagonisti In questa settima stagione Saranno praticamente Collegati Diciamo gli avvenimenti Che sono Che sono successi In questa settima stagione Saranno estremamente Collegati con l'ottava Quindi serve Questa settima stagione E sicuramente Ce ne accorgeremo Nell'ottava Per quanto riguarda Appunto la domanda Invece finale È che credi che Carol possa morire Guarda Carol è il mio personaggio Preferito Quindi spero Assolutamente Che non muoia Perché ha avuto Una caratterizzazione Pazzesca Il suo personaggio Ed è per questo Appunto Che è il mio preferito Ma Diciamo le carte In tavola ci sono Perché Carol Sta veramente Passando un periodo difficile Della sua vita Proprio perché Comunque non ce la fa più A sopportare il peso Di uccidere le persone Però Lo deve fare Per poter permettere La libertà Diciamo Al gruppo E quindi secondo me Si potrebbe In qualche modo Morire Magari sacrificandosi In qualche modo Stavo pensando Cose così Io spero Veramente di no Perché è il mio personaggio Perverito Ragazzi ma Come si dice Tutto può succedere Spero veramente Di no comunque Prossima domanda Ce la fa Già Già Sover Oppure Non so bene Come pronunciarlo Questo tuo nome Comunque insomma Ti chiamerò Over Che ci chiede Questo è un answer Cosa pensi Dell'ipotesi Che Daryl Possa morire Io spero Che non succeda mai Allora Su questo concetto C'è un po' da parlare Perché Daryl È il personaggio Un po' preferito Da tutti Quindi è il personaggio Un po' che comunque Insomma Se morisse Diciamo Molti si butterebbero Giù dalla finestra E dire La mia vita è finita Perché Daryl è morto Ma io non sono uno di questi Nel senso Sì Daryl è praticamente Uno dei personaggi Che mi piace di più Non è ovviamente Il mio preferito Come già ho detto Ma comunque insomma È uno dei miei preferiti Però insomma L'ipotesi che Daryl Possa morire C'è Nel senso Sicuramente Prima o poi morirà Sicuramente In quest'ottava No Sarà scontato Che non morirà Assolutamente In quest'ottava Ma Diciamo che Nella nona Già nella decima Potremmo vedere Diciamo perché Le Walking Dead Poi alla fine Grosso modo Dovrebbe durare All'incirca Insomma 12 stagioni È stato detto Più o meno così Quindi ipotesi Durasse 12 stagioni Secondo me Daryl more Due stagioni prima O una massimo Però perché comunque Un personaggio del genere Per riascolti Non può assolutamente Morire Perché comunque Insomma Molti sono affezionati Al suo personaggio E dispiacerebbe a tutti quanti Vederlo morto E quindi insomma Molti abbandonerebbero La serie Diciamo che sì Daryl può morire Ma non così presto Nel senso Daryl comunque morirà Ma sarà uno degli ultimi A morire Come già ha detto Beth Nella quarta stagione Quando c'è stato Il discorso Fra Beth e Daryl Beth gli ha detto Semplicemente Che lui rimarrà L'ultimo dei sopravvissuti Proprio perché Comunque Daryl È un personaggio Che è portato Per il mondo In cui sta vivendo Glielo aveva già detto Con Beth Insomma Quel dialogo È servito proprio A capire Un po' come fosse Il personaggio di Daryl E comunque Insomma Secondo me Sarà uno degli ultimi A cavarsela In questa In questa diciamo Apocalisse Possiamo dire così Prossima domanda Ce la fa Nicky BRS Che ci cade E questo è un'anser Secondo te Questa sarà L'ultima stagione Di tutta la serie Di The Walking Dead Continua così Sei un grande Grazie mille Nicky Per il complimento Allora guarda Ti dirò No Non sarà assolutamente L'ultima stagione Di The Walking Dead Già stato escluso Perché comunque Insomma The Walking Dead Grossomodo Durerà Un minimo di 10 stagioni Se proprio vogliamo esagerare Con un massimo di 12 Quindi comunque Insomma 12 stagioni Gli dura sicuramente The Walking Dead Cioè Riesce a tenere questo ritmo Però perché Ha molte cose da raccontare Ancora dopo la guerra Ai sussuratori Ha molte altre cose da raccontare Quindi state tranquilli Che The Walking Dead Non finirà così presto Però insomma Diciamo che siamo Non dico che siamo Indirittura d'arrivo Perché comunque C'è ancora molto da raccontare Però dobbiamo un po' Metterci diciamo A conoscenza Che The Walking Dead Insomma Non è proprio Una serie appena iniziata Ecco È diciamo a metà O più della metà Del suo cammino Quindi veramente ragazzi Siamo Io spero non finisca mai A dire la verità La serie Però purtroppo ragazzi Finirà Quindi Che dobbiamo fare Insomma Io spero veramente Che duri più possibile Ma comunque Escludo assolutamente Che questa sia L'ultima stagione Di The Walking Dead Prossima e ultima Domanda ce la fa Samuel Ligione Che ci gate Question and answer Pensi che Judith Crescerà durante il salto temporale Potrebbe diventare stabile Come suo padre Ovvero Shane Ma questa è bastarda No vabbè A parte di scherzi Perché comunque Insomma sappiamo benissimo Che Judith In realtà è figlia di Shane Non figlia di Rick E l'ha già detto Rick Nella Nella quarta puntata Della settima stagione Ma comunque Diciamo che Judith È un personaggio Che secondo me Potrebbe evolversi Dopo la guerra Se non muore prima Spero veramente di no Perché insomma Far morire una bambina Durante la guerra Sarebbe proprio bruttissimo Ma comunque insomma Ipotesi Dovesse sopravvivere Ovviamente Crescerà durante il salto temporale Ovviamente Però non credo insomma Che diventi stabile Come Shane Diciamo che Shane Era così Perché era così Ma non è Che detto Che prenda tutte le orme Del padre Tra virgolette Io non credo Che diventi stabile Come suo padre Shane Ma L'ipotesi Che possa esserlo Secondo me Insomma Potrebbe esserci Perché comunque Per ricordare un po' Com'era Shane Magari Rick Guarderà Judith E si ricorderà Di com'era Shane Proprio perché Judith Magari Prende le somiglianze Di suo padre Quindi magari lui Tramite Judith Si ricorda del suo amico Che purtroppo Come sapete Ha ucciso Nella seconda stagione E quindi ci potrebbe essere Questa piccola parallela Tra praticamente Questa piccola Doppia faccia Diciamo di Judith Tra virgolette Per far ricordare a Rick Di Shane Potrebbe tranquillamente Esserlo Ma non dobbiamo Diciamo Escluderlo al 100% A questa cosa Secondo me Non succederà Però comunque Non è da escludere Questo è il 100% sicuro Quindi niente ragazzi Queste erano le domande Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Tutte queste domande E soprattutto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Dello speciale De 100 episodi Se vi è piaciuto Se questi 15 secondi Possono aver trasmesso emozioni Come a me Hanno trasmesso Perché questi 15 secondi Penso che Hanno trasmesso veramente Troppe emozioni Per essere soltanto 15 secondi Fatemelo sapere voi Con un commento Spero tranquillamente Questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di piacere mi piace Perché ci tengo veramente moltissimo Inoltre iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead Ed entrate nel canale Telegram E troverete il link Nella descrizione Scusate non nel canale Nel gruppo Mi confondo sempre Nel gruppo Telegram Trovate il link in descrizione Nel gruppo ci sono anch'io Quindi potete sempre Parlare con me Assolutamente Insomma potete fare Quello che vi pare Ovviamente insomma C'è Diciamo un limite Nel senso Vi dovete ovviamente Saper comportare all'interno del gruppo Perché altrimenti Insomma ci potrebbe essere il ban E tutte queste cose Che già sapete immagino Ma comunque Se volete entrare Per parlare di The Walking Dead Insieme a me Insieme agli altri fan Trovate il link Nella descrizione E sarei felice ovviamente Che entraste Quindi niente ragazzi Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Fox And The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ma io ti ucciderò